Ti ho già visto da qualche parte? Sì, sì, questo sei tu, vero? Oh, che bravo! Non sono più i ragazzi di un tempo, ma non sono del tutto cambiati. Questo weekend ci fottiamo tutto il mondo! Ma che razza di porcate schifosi, state facendo! Al quarto episodio, la banda è nuovamente al completo. Oh mio Dio! American Pie, ancora insieme. Domenica alle 21, su 27. Sì, sì, sì.